Dopo quella famosa cena, per qualche mese tutto andò a meraviglia. Giovanni aveva restituito l'anello a Marina. Non ci ha mai voluto spiegare come. Fatto sta che da quel giorno si erano messi insieme ed erano sempre lì. Ci ci ci, ci ci, ci ci ci. Ci! La cosa era seria, tanto che Giovanni si aveva pure comprato la macchina per andare a fare le gite romantiche. E soprattutto ci aveva confessato di aver preso una grande decisione e avrebbe chiesto di andare a vivere con lui. Grazie per la visione!